L'importanza di essere sul territorio e di sorvegliare tutti i possibili movimenti è stata confermata una volta di più venerdì scorso in via in Briani. Una pattuglia del primo distretto nota un individuo che si aggira con fare sospetto. I guanti di pelle nera in agosto, i pantaloni tecnici da incursore e la giacca multitasche aumentano l'impressione iniziale. Alla richiesta dei documenti l'uomo glissa, militando di appartenere al Ministero dell'Interno, di essere parte della scorta di un specificato personaggio importante. Alle insistenze della pattuglia però recupera il documento del cruscotto della macchina lì vicino, ma nel fare ciò degli oggetti cadono sul fondo. Si tratta di due punteruoli metallici con impugnatura della lunghezza di 10 cm l'uno. Nella successiva perquisizione personale viene trovato addosso un laccio di filo metallico di 70 cm con due anelli all'estremità, chiaramente costruito per strangolare. Immediato l'accompagnamento di BM, questo è l'iniziale dell'uomo triestino di 44 anni, presso il nucleo di polizia giudiziaria. Il pubblico ministero di turno autorizza la perquisizione domiciliare dove vengono trovati e sequestrati ben sei pugnali appuntiti con doppia lama affilata lunga tra i 20 e i 30 cm. BM è stato così denunciato per detenzione di armi e porto di armi improprio.